Volete sapere qual è il miglior villain degli anime? Ma ve lo spiego io. Partiamo con questa bellissima battle di 32 personaggi che si andranno a sfidare, per me ovviamente, secondo i miei gusti, secondo il mio sapere, per chi è il miglior villain degli anime. Partiamo subito con Merrick, che non conosco così su due piedi, ma a giudicare dalla capigliatura e dallo stile di disegno, credo che sia un personaggio di Yu-Gi-Oh! che non conosco perché l'ho visto pochissimo, quindi partiamo benissimo. Mentre Xein, Xein che, oddio, chiamarlo villain è un po' eccessivo, sinceramente, dato che poi alla fine quando iniziano a giocare, Xein è un personaggio di Inazuma Eleven, quando poi iniziano a fare i tornei per i mondiali di calcio, il campionato per il Football Frontier International, mi pare, ma non è poi così malvagio, ecco, insomma. I Inazuma Eleven di malvagio c'è poco. Comunque sì, dato che Merrick non lo conosco, vado per Xein. Abbiamo Barba Nera di One Piece, il presentatore di Tomodachi Game, che non conosco, quindi senza darci neanche troppe spiegazioni, andiamo subito con Barba Nera. Ok, non conosco nessuno dei due. Anti-Spiral non ho idea, forse Oberon, se non ho capito male chi è, dovrebbe essere un personaggio di Sword Art Online, la seconda serie, quindi vado per Oberon. Yurika non ho presente chi sia, e Ade non ho presente chi sia. Partiamo già con degli anni dei villain che non conosco, eppure qualcosina leggo e guardo, ma vabbè. Ade è giusto per la cazzutaggia. Oh, ma ho si incomincio a ragionare. Da una parte abbiamo Freezer, e da una parte Dawn Thousand. Dawn Thousand sembra pure cazzuto, come personaggio, come disegnato, come strutturato, però non c'è niente da fare. Questo round qua lo passa. Freezer! All for One e Zeke! All for One direttamente da My Hero Academia e Zeke, da Attack on Titan. Vi dirò, non sono un grande stimatore di Attack on Titan, mi è piaciuto fino alla terza stagione, la quarta dovrebbe essere la migliore in realtà per molti di voi, non mi ha fatto granché impazzire. All for One invece come personaggio mi ispira, devo ancora leggermi qualche capitolo del manga, per essere impari, ma... Facciamo passare all for One. Charles e Diavolo. Ragazzi, non conosco nessuno dei due, vado per Charles e lì. Dio! Detto God e Zeus. God direttamente da One Punch Man, perché solo lì lo disegnano in questo modo, e Zeus direttamente da Ragnarok qualcosa, Record of Ragnarok. Zeus l'ho visto, in un combattimento, l'ho visto nell'anime, ma non ne sono un grande amante, infatti l'ho interrotto, mentre One Punch Man, che potrebbe essere uno dei miei manga preferiti in assoluto, ancora deve essere definito bene, questo famoso God, Dio, questa entità qua, che però regala poteri a... regala poteri, in cambio fa un patto con gli umani, con dei mostri, comunque gli dà poteri, ma se loro provano a rivelare chi è lui, lui li stronca sul nascere. Quindi, andiamo per God, ma non questi non dureranno molto, secondo me. Su casa, che non conosco, è Muzan, che credo sia un personaggio di Demon Slayer, è sempre un po' affascinato, con questo stile molto alla Michael Jackson, vada per Muzan, dai. Satana, è Adamo. Ragazzi, non li conosco, vada per Satana, ma... pensavo villain diversi. Ray Dark, in Azuma Eleven, e non compare nulla, ragazzi, quindi vada per Ray Dark, una sfida difficilissima. Meruem contro Yujiro, qui probabilmente già alcuni di voi mi ammazzerebbero, abbiamo Yujiro di Bucky, e Meruem di Hunter x Hunter. Meruem, per chi segue il mio canale, sa che io l'ho doppiato in due o tre video. Meruem, ragazzi, personaggio bellissimo, bellissimo. Mark Landers, direttamente, credo da... Oli e Benji, credo fosse vero, sì. Madara, ragazzi. Madara di Naruto. Qua non c'è niente da documentare. Subito Madara, e via. Abbiamo Dio Brando. Non ho mai visto Jojo, ma mi è sempre affascinato questo personaggio qui. Sono molto fiero. Ok, abbiamo il Red Dead. Nonostante io abbia visto Seven Deadly Sins, personaggio Red Deadly Sins, poco caratterizzato comunque come personaggio. Noi hanno dato tanti valori, il classico cattivo di base. Ara, anche pur non conoscendolo, voto Dio Brando, sinceramente, perché poi mi è andato un po' a scadere Seven Deadly Sins verso la fine. Yagra, so che sia, è Demone Pistola, che sembra uscito da My Hero Academy. Lo voto solo perché sembra un ammasso di armi strane. Ostrock, e Sukuna. Signori, aspetta. Stiamo parlando anche dello sfondo del mio PC, quindi, Sukuna. Dopo ci sarà da dire. Ok, si parte con i sedicesimi. Charles contro Musan, che ripeto, ancora non conosco nessuno dei due, ma siccome mi è più figo, votiamo Musan e via. Dio Brando contro Oberon. Porca troia, sono due personaggi che conosco giusto così. Dio Brando. Barba Nera contro Xen. Stiamo parlando però di Villain, non di personaggio quanto sia bello. Stiamo parlando di Villain, quindi comunque di un cattivo serio, eh. Xen di Nezuma Eleven, non so perché è stato messo qua dentro. Barba Nera, ragazzi, Barba Nera. Freezer contro Ray Dark. Vorrei documentare le battle in modo più approfondito, solo se ce n'è realmente bisogno. Ray Dark, per quanto sia quello lì che cercava in tutti i modi di vincere le partite, di vincere il Football Frontier, pur danneggiando le squadre avversarie. Freezer è stato molto più dettagliato, molto più approfondito. È mia passione che guardo Dragon Ball da quando ho 4 anni. Freezer tutta la vita. Satana contro Meruem. Qui, Satana c'ha un quadro gigantesco e Meruem ha un quadro piccolissimo, ma io me ne sbatto il cazzo, perché Meruem per me arriva in finale, secondo me. Sukuna contro Demone Pistola che non so chi cazzo sia, quindi vai Sukuna. Tu pure te la meriti di arrivare in finale. Dai. All for one contro Dio. Perfetto. Allora, due personaggi che... God è ancora misterioso. Dio è ancora misterioso. All for one già ha svellato gran parte delle sue carte, gran parte della sua storia. All for one è più caratterizzato. Uno si riesce anche ad affezionare in qualche modo ai villain. Se dai pochi dettagli, basandosi solamente sull'aspetto fisico, sulla misteriosità, non puoi comunque affezionarti a un personaggio. quindi meglio il for one. Ultimo round dei sedicesimi. Madara contro Ade. Non c'è da parlare. Madara. Si parte con gli ottavi. Abbiamo Freezer contro Dio Brando. Dio Brando mi sa che ci saluterà. Freezer lo conosco da più tempo, conosco tutta la sua storia. Sono proprio affezionato come personaggio. Credo che sia anche uno dei migliori villain di Dragomole in assoluto. Quindi, Freezer bola. Barba Nera contro Muzan. Anche qua Muzan enorme, quadrato, gigante. Barba Nera piccolissimo, ma Muzan non l'ho visto. Barba Nera... Supererai questo round, ma al prossimo non lo so. All for one contro Sukuna. Sukuna, villain uscito già particolarmente... Praticamente dal primo o secondo episodio, mi pare, di Jujutsu Kaisen. Personaggio di cui ancora bisogna vedere al pieno tutta la sua potenza. Sukuna, pur non essendo ancora arrivato al punto, al culmine della sua storia, dalla spiegazione totale del personaggio, del fatto che lui sia una maledizione che molti anni prima, insomma, rispetto alla storyline odierna, diciamo, dell'anime, è già riuscito a farsi apprezzare. Uh, questo, questo è bastardo, questo è molto bastardo. Madara contro Meruem. Questo è bastardo, perché da una parte abbiamo il ninja di Konoha, il primo fondatore del villaggio insieme a Hashirama, nonché il Lucia più forte prima di Sasuke. E da una parte abbiamo Meruem, non ci crederete, ma per quanto io possa averlo doppiato, tutto, non ho mai visto Hunter x Hunter fino al punto in che compare a Meruem, quindi, mi dà come personaggio perché già doppiandolo un pochettino ho visto delle frasi che ha detto e come le ha dette c'ha stile, c'ha stile. Ma Madara quando entra nella quarta guerra ninja con la resurrezione di Kabuto l'apice dello stile, c'è proprio cazzuto a livelli estremi. Madara. Primo round dei quarti, Freezer contro Barba Nera. Barba Nera fino adesso è apparsi One Piece, per poi io non sono, cioè sono un grande appassionato di One Piece ma non a livelli di teorie o altro, quindi Barba Nera è apparso poco prima della guerra di Marineford dove sembrava inutile come la fame, poi è apparso giustamente a Marineford uccidendo Barba Bianca rubandogli il Gura Gura, un angio straforte di per sé, straforte ma poi per un periodo si è perso, adesso è tornato, è tornato nel manga, però è tornato e si inizierà a far notare un pochettino di più adesso mi sa perché One Piece sta arrivando nel suo arco finale quindi si farà notare di più. Nasconde ancora tanti misteri, però non sono riuscito ancora a farmelo apprezzare come Freezer, però adesso una spanna sopra. Questa è bastarda però, Adara contro Sukuna, questa è bastarda, questa è stronza propria. Jujutsu Kaisen sto guardando adesso la seconda stagione dell'anime, sono presissimo, ogni sera mi guardo un episodio 2. Naruto Shippuden l'ho finito da un po', ho incominciato anche Boruto, Naruto Boruto, vabbè, non è neanche paragonabile a Shippuden, stiamo parlando comunque da una parte di Jujutsu Kaisen, di un personaggio che semplicemente sì, è vero, vuole ritornare ad avere il controllo completo, dato che è stato sigillato, esorcizzato, adesso non mi ricordo bene Sukuna, come che fosse sparito anni prima, molti anni prima, ma tornerà e diventerà sempre più potente mangiando le dita trovate in giro, no? Le sue dita trovate in giro. Invece Madara è stato spiegato per filo e per segno tutta la sua storia e quando è morto alla fine si scopre che lui ha sempre in qualche modo voluto la pace, a sui modi, ma ha sempre voluto la pace. E per lui la pace era questo Tsukuyomi infinito, tutte queste cose che si sono tramandate, che poi alla fine si è scoperto che lo Tsukuyomi infinito era un modo per far tornare Kaguya uno Tsuzuki, vabbè, caratterizzato comunque ha avuto una bella storia Madara, cosa che ancora Sukuna per adesso non può avere. Passa il turno Madara. Siamo alla battaglia finale, Freezer contro Madara. Perfetto. Freezer è il classico cattivo che vuole conquistare tutti i pianeti, vuole essere l'imperatore della galassia, come si è definito lui appena è comparso. Inameca vuole recuperare le sfere, poi è arrivato comunque il Saiyan che era il Super Saiyan era il problema di cui lui si è sempre cacato addosso il motivo per cui ha distrutto il pianeta Vegeta. Però confronto a Madara che comunque è un cattivo ma che poi alla fine si dimostra che lui ha fatto quelle cose solamente per portare bene al villaggio suo è stata la grande svolta comunque ai fini della storia perché Madara è stato proprio Lucia che è sempre stato nominato nel corso della serie ma non era mai stato visto e lui si è stato visto letteralmente la prima volta nella quarta grande guerra ninja dove è stato risuscitato da Kabuto però comunque se ne è sempre parlato nell'ombra è sempre stato presente in tutto Shippuden per me tra Freezer e Madara a livello di villain non come personaggio perché se guardiamo come personaggio di per sé vabbè come cattiveria oddio potrebbe esserci se guardiamo il villain anche come cattiveria Freezer non scherza dicevolo chiaramente che Freezer non scherza ma Madara neanche dopotutto Madara neanche non si è proprio frenato a far fuori Shinobi a go go lì quando ha lanciato il doppio meteorite che Tsuchikage e Gara hanno dovuto fermare però secondo me Madara caratterizzato molto meglio molto 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 meglio Madara è il miglior villain degli anime ne avrei messi molti altri ma chi ha creato questo torneo non li ha inseriti quindi ahimè vince Madara da questo video è tutto noi ci vedremo a un'altra World Cup a